Noi riteniamo che i principali motivi per montare un impianto fotovoltaico sia raggiungere un'indipendenza energetica e salvaguardare l'ambiente. L'energia che arriva dall'impianto fotovoltaico è illimitata, infinita e soprattutto è energia pulita. Non andiamo a consumare risorse della terra e soprattutto non andiamo ad inquilare. Siamo specializzati in impianti fotovoltaici chiave in mano. Offriamo assistenza maniacale al nostro cliente seguendolo in ogni parte del processo che comincia con una scelta di progetto esatto, la realizzazione dell'impianto, tutta la parte burocratica, possiamo assistere sulla parte finanziaria, sulla parte assicurativa. Facciamo anche servizio di montezione anche se gli impianti fotovoltaici fatti con buoni componenti e installati bene durano un sacco di anni senza dare problemi. Per gli impianti esistenziali e la manutenzione consigliamo di farla biennale. La pulizia viene fatta solo con acqua o acqua asmotizzata, quindi priva di sali minerali, con getti ad alta pressione che garantiscono da un lato un'ottima pulizia dei pannelli e dall'altro non infiniamo in nessun modo le acque meteoriche. Offriamo anche integrazione con altri servizi, per cui non è solo fotovoltaico, ma ci sono anche servizi che possono essere abbinati, condizionatori, pompe di calore per fare riscaldamento, per portare acqua calda, quindi un servizio completo e affidabile. I nostri punti di forza sono la presenza nel territorio, siamo qui da 15 anni, siamo un'azienda locale e operiamo con personale proprio. Seguiamo bene tutti quanti gli aspetti e siamo sicuri che le nostre persone realizzino gli impianti sempre con la qualità che noi pretendiamo, perché sono con noi da anni.